Nonostante una campagna promozionale e pubblicitaria partita un po' in sordine, il richiamo di Ulisse della nave arcaica di Gela inizia a farsi sentire già da appena 24 ore dalla presentazione ufficiale della mostra a Bosco Littorio. Sui canali di informazione messi a disposizione dal Museo, dalla Regione e dal Comune, sono già arrivate decine di richieste da diversi paesi limitrofi per prenotare la visita al Museo. La mostra sarà divisa in otto sezioni tematiche, oltre 85 pezzi provenienti da musei regionali, nazionali ed esseri, tra i quali il Museo Nazionale Iatta di Ruvo di Puglia, il Museo Etrusco Guarnacci di Volterra, il Museo Nazionale di Villa Giulia a Roma, il Museo Nazionale di Sperlonga e addirittura dai musei archeologici greci di Delfi e Leuterna. Al centro naturalmente la nave arcaica, che approda finalmente Gela anche se espossa parzialmente dopo la trasferta di Forlì del 2020. Un allestimento molto suggestivo che da venerdì sarà aperto al pubblico. Il percorso espositivo, allestito dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta, sarà visitabile dal 22 luglio al 10 ottobre e racconterà il passaggio di Ulisse in Sicilia. La mostra è suddivisa in otto sezioni, il relitto rappresenta il fulcro della mostra, si parte da una sezione che ci ricorda qual era la dominazione greca in Sicilia, con una serie di reperti che testimoniano la presenza greca in Sicilia, per poi passare a Ulisse, a Polifemo, i personaggi proprio rappresentativi dell'Odissea, c'è una sezione dedicata alle sirene, il Presidente ha parlato di Penelope, abbiamo voluto un grande pannello che raffigura proprio Penelope e si arriva, il percorso si conclude con una sezione dedicata ai viaggiatori, i viaggiatori sappiamo che nel 700 da tutta Europa venivano in Sicilia e ripercorrevano proprio i luoghi del mito, quindi ci sono dei libri con delle incisioni molto preziose che ripropongono i luoghi del mito di Ulisse. L'allestimento si trova in un padiglione appositamente realizzato all'interno del Parco archeologico, in prossimità del Museo dei Relitti Greci, struttura in costruzione destinata a ospitare definitivamente il relitto recuperato dalla sovrintendenza grazie agli studi effettuati dal compianto Sebastiano Tusa, che indicò in quella località l'antica colonia d'Orica di Gela. Nei prossimi mesi però, come conferma l'assessore regionale beni culturali Alberto Samunà, a Gela dovrebbe essere restituito anche il Museo archeologico attualmente in ristrutturazione. A dicembre finiranno i lavori di realizzazione del Museo delle Navi Arcaiche qui a Bosco Littorio, a pochi passi dal padiglione che ospita la mostra, che potrà essere destinato a mostre temporanee, a iniziative culturali. Contestualmente in città proseguono i lavori del Museo archeologico e dunque tra il Museo archeologico e Bosco Littorio si creerà finalmente un'offerta integrata che punta sull'archeologia come elemento di assoluta contemporaneità. L'archeologia non è vecchia, l'archeologia è contemporanea perché racconta una Sicilia universale che è la Sicilia del mito, è la Sicilia della nostra storia, è la Sicilia dei nostri progenitori ed è la Sicilia della bellezza che vogliamo dare al mondo. La mostra di Ulisse intanto aprirà i battenti venerdì 22 luglio alle 18 e resterà poi aperta fino al 10 ottobre dal martedì alla domenica, festivi compresi dalle 10 alle 20 con l'ultimo ingresso alle 19.30. Per tutte le informazioni è stato creato un apposito sito web e canali social dedicati su Facebook e Instagram. Il nostro impegno è stato davvero tanto e quindi ci aspettiamo un ritorno in termini appunto di fruizione della mostra pari al nostro impegno.